Panico è proprio quello che dobbiamo evitare, anche perché in condizioni di panico, adesso lo Simoro che diceva giustamente il sociologo dell'utilizzo di panico e di quotidianità, capisco la provocazione, però è proprio quello che dobbiamo evitare perché il panico poi porta a non essere razionali nell'affrontare il problema. Se non vogliamo vivere nel panico dobbiamo comunque accettare il fatto, se non vogliamo modificare il nostro stile di vita dobbiamo comunque accettare il fatto che ci deve essere una radicale variazione nell'assetto preventivo che le nostre forze dell'ordine, la magistratura e le istituzioni in generale devono mettere in campo per contrastare possibili atti terroristici. Partiamo da un concetto base, cos'è uno Stato? Uno Stato non è nient'altro che un patto sociale fra dei cittadini e un'istituzione all'interno del quale c'è anche la questione della difesa dei cittadini. In questo momento dove lo Stato è sott'attacco da un altro Stato e quindi su questo non sono d'accordo, anche se autoproclamato, cioè dello Stato islamico, su questo non sono d'accordo con il dottor Ferraresi, è purtroppo a tutti gli effetti un atto di guerra. Ferrarotti, scusate. È a tutti gli effetti un atto di guerra, speriamo che non diventi poi, questo sì siamo d'accordo, una guerra. È chiaro che il livello, diciamo così, di privacy nelle comunicazioni elettroniche, piuttosto che la questione che veniva citata prima di prese di posizione con stati di emergenza, sono ipotesi in campo non per ledere i diritti dei cittadini ma proprio per difendere i cittadini da un rischio elevatissimo di sicurezza. Quello che non deve essere fatto, secondo me, perdonatemi, non è un affronto alla stampa ma è un consiglio, è evitare a ogni minimo fermo di una metropolitana, piuttosto che a una perimetrazione di un'area più o meno grande in una città, di dare la notizia come se fosse, come diceva Cosa, lo sgub. Bisogna stare molto attenti in questa fase qui a non far rimbalzare perché è quello sì che creerebbe panico e crea anche difficoltà poi alle forze dell'ordine del gestire qualcosa che magari effettivamente sono situazioni di rischio.